Abbiamo visto perché le domande sono una cosa molto positiva e perché non vanno temute. È il momento di vedere come rispondere ad esso e vorrei iniziare con alcuni principi generali. Il primo è quello di rispondere sempre completamente ad una domanda. Significa evitare di rispondere solo alle parti che ci fanno più comodo. Questo è vero sia se la domanda è una sola e ovviamente anche se la domanda è composta da più domande. Dobbiamo rispondere ad ognuna di esse. Se c'è una parte della domanda o delle domande che ci mette in difficoltà, dove non siamo in grado di dare una risposta, va benissimo rispondere parzialmente e a patto di rendere manifesto il fatto che non siamo in grado di rispondere alla seconda parte. e ciò mi porta a parlare proprio di questo caso specifico, cioè quando ci viene posta una domanda e noi non siamo capaci di rispondere. Cosa fare? Se lo chiedo durante i miei seminari.